Per la perfetta uscita del Black Russian, l'importanza del liquore al caffè è determinante. Bruno scuro, quasi nero, al profumo fragrante del caffè appena tostato, si fondono le note dolci del cacao e della vaniglia, che permangono a lungo in bocca. Il gusto è piacevolmente dolce ed equilibrato per il dosaggio e per la presenza del ghiaccio e della vodka. Un cocktail da consigliare dopo cena. Si prepara direttamente in un bicchiere old fashion colmo di ghiaccio.